Giovedì 16 gennaio presso il Cineteatro dei Filippo di Agropoli alle ore 18 si terrà una serata per celebrare il 34esimo anno di attività dell'Asso Cinema, associazione culturale agropolese nata nel 1986 per la divulgazione e la produzione di documentari su Agropoli e il Cilento e di film e corti amatoriali. Durante la serata ci saranno delle proiezioni filmiche al fine di rievocare i momenti più importanti e suggestivi degli oltre 30 anni di attività dell'Associazione. A conclusione verrà proiettato l'ultimo film dell'Asso Cinema, Tramonto Amaro, nato da un'idea del presidente dell'Associazione, Domenico Avenia, che lo ha anche diretto e sceneggiato e scritto dalla poetessa Anna Santosgro, direttrice della scuola di teatro Egno Balbo. La produzione completa di quest'ultimo corto è durata circa un anno. Inoltre all'evento saranno presenti il presidente del Festival Internazionale del Cinema di Salerno, Mario De Cesare, il professore Vincenzo Pepe ed altre autorità del mondo del cinema e dello spettacolo. L'Asso Cinema fu fondata dall'attuale presidente Mimì Avenia insieme a Vincenzo Pepe e ad Ignazio Rossi, nell'anno più difficile per il cinema agropolese, in quanto nel 1986 chiuse l'ultima sala rimasta ad Agropoli. Inizialmente gli associati erano 13 e sono arrivati fino a 70. L'associazione ha realizzato circa 30 cortometraggi e 10 documentari e ne sono stati associati personaggi come Gianni Petrizzo, regista cilentano che grazie al suo ultimo film, Il maestro più Margherita, sta vincendo svariati premi a livello internazionale. Giulio Mainenti, regista delle puntate di Porta a Porta, Tilio Rossi, autore di numerose opere cinematografiche, Enrico Giuliano e tanti altri ancora.